Il tavolo anticrisi era stato convocato già da prima che uscisse il DPCM, quindi l'incontro è stato comunque portato avanti. Hanno partecipato tantissimi enti, anche oggi erano presenti, c'era anche l'assessore Vimini, anche consiglieri comunali e si è detto, come proposta da parte del consigliere Biancani, di invitare al prossimo incontro anche i consiglieri di maggioranza o comunque l'assessore di maggioranza regionale, anche perché noi stiamo preparando un documento con dei punti di richiesta soprattutto per le imprese, perché sappiamo benissimo le difficoltà che stanno attraversando. In questo momento difficile l'amministrazione ieri ha voluto incontrare le associazioni di categoria insieme al sindaco dove appunto noi abbiamo voluto ribadire che massima vicinanza nei confronti delle imprese. Non ci siamo fermati, appena è uscito il DPCM, essendo anche all'interno delle chat ANCI nazionali, Pesaro è stata promotrice, questo grazie anche comunque al lavoro insieme agli assessori o anche ai nostri dirigenti. Abbiamo fatto una lettera come assessori alle attività economiche, dove abbiamo richiesto appunto la possibilità di velocizzare e dare ristoro a tutte le attività, cosa che avevano già comunque fatto i sindaci del ANCI, ma noi come assessori abbiamo avuto una risposta positiva da parte di tutti gli assessori a livello nazionale, quindi immediatamente è stata poi spedita ieri verso mezzogiorno la lettera dove appunto chiedevamo una risposta concreta visto le difficoltà che sono state emesse queste attività. Questa mattina il tavolo anticrisi devo dire che è andato molto bene, l'amministrazione so che incontrerà nei prossimi giorni anche, penso sia domani, incontrerà le associazioni culturali e oggi ci sarà un incontro con le associazioni sportive, come ieri abbiamo fatto con le associazioni di categoria.